Incidente nel tardo pomeriggio a Beura Cardezza. Un'auto, per cause al vaglio dei carabinieri di Crevoladossola, è uscita dalla careggiata e ha divelto una cabina di derivazione Enel finendo la corsa sul muretto adiacente. Lievi contusioni per il conducente, unica persona a bordo. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di... Live 24 ore su 24